Benvenuti o bentornati su Dental Inspire, in questo nuovo video vedremo come importare dei file creati da scanner intraorale nel software Cares Strauman di Dental Wings. In due passaggi passeremo da Mesh Mixer per la pulizia dei file fino dentro la procedura di importazione e creazione dell'ordine per una corona su impianto in Dental Wings. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nuovi tutorial, ma adesso a voi il video! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!